E' questo mondo verità, ma nell'influire sul divenire. E' questo mondo verità, ma nell'influire sul divenire. Il cacciatore se ne va, lui non è che esce dalla sua tana perché è convinto che il cacciatore se ne sia andato, esce perché è convinto che il cacciatore finca di andarsene. Perché lui vuole l'influire sul cacciatore e oggi lo prenderemo, oggi lo castigheremo, oggi lui uscirà fuori e non troverà il cacciatore. Il cacciatore se ne va, lui non lo prenderemo. E' questo mondo verità, lui non lo prenderemo. E' questo mondo verità, lui non lo prenderemo. C'è un'esplazzo di carronesti, che cos'è, russo polacco. Ah, Giovannino, scusami, mi chiano, Giovannini. Beh, senti, Lindero, ma stiamo parlando a gioco. E' da stamattina che io fingo di dire, di scappare, di fare il fugitivo. vabbè adesso questi qua se ne sono scappati di un cerchio Giovannino Guarendro e si hanno avuto e questo mondo verità ma nell'influire sul divenire e cioè l'uomo ci sta dicendo e si hanno avuto e questo mondo verità ma nell'influire sul divenire lo sapete perché hanno mandato come un'altra tutto si lo ha rompere hanno mandato perché è convinto che il cacciatore se ne sia andato e poi è convinto che il cacciatore si è andato e oggi lo castigheremo e oggi lo uscirà fuori e non è che esce dalla sua tana perché è convinto che il cacciatore se ne sia andato esce perché è convinto che il cacciatore si è andato e quindi muore il cacciatore oggi lo castigheremo oggi lo uscirà fuori come via sono partiti ma ci sono sempre via 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 è possibile non ci sono andato a prendere e non mi hanno anche più altre fotografie che fotografia massimo è 8 mesi a Roma per favore una diretta eccolo pronto scusa chi parla è possibile non ci sono andato e non mi hanno anche più a un fotografia che fotografia massimo è un promesso a Roma pronto pronto a Roma per favore una diretta eccolo pronto si chi parla di Carlo di Messi ma cos'è russo o polacco ah Giovannino scusami chiaro Giovannino beh senti Indro ma noi stiamo parlando il gioco è da stamattina che io fingo di dire di scappare di fare il positivo vabbè adesso questi qua sono scappati in serio Giovannino Guarretto grazie a tutti Grazie a tutti